Musica Battista Giudici, Sciclub Clusone, una giornata perfetta, oserei dire, baciata dal sole, soddisfazione da parte dei ragazzi e dei genitori. Come è andato il gigante di oggi qui a Colere? Benissimo, merito ai nostri preparatori e allenatori che hanno preparato una bellissima pista, il tempo ci ha assistito, come hai detto te, la giornata è andata bene, l'importante è che non si è fatto male nessuno, di cui siamo molto felici. Molte presenze, vediamo proprio un bellissimo ambiente, carichi i ragazzi, i genitori di un bel tifo, sono stati tutti al loro posto, tutti fuori dalle piste, che si dice sempre questa nozione da dare ai genitori. Un bel comportamento a parte di tutti, sport con spirito sano. E una buona prova per tutti i ragazzi e le ragazze in pista, erano tutti belli carichi, io ero alla partenza, insomma c'era un bel clima anche con gli allenatori. Proprio, dici bene, li vedi, sembrano dei mini campioni, veramente, non so se l'effetto gogia o l'effetto campioni tv, non lo so, comunque da guardare sono proprio belli e loro li vedi entrano in un'atmosfera da, si sentono campioni. Spero che nella loro vita queste gare le servono per la crescita, perché non è solo sul campo da sci, ma anche nella vita quotidiana devono confrontarsi con tutti gli altri, con i loro amici. E dunque è una sfida continua, dunque questo è un bel insegnamento, un bel ambiente, un bel ambiente. Ringrazio la federazione, ringrazio la Fisi, Bergamo e non solo, e tutti i nostri sponsor che ci danno una mano per fare questa bellissima manifestazione.